Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video! In questo nuovo video volevo fare un video apertura di LOL Surprise! Le lille che sono uscite da poco nei negozi di cioccaffoli. Ne ho prese due, una grande e una piccola. Oggi sono in compagnia di... Thomas Che è il suo canale... Thomas Brixia e Gigi, seguitemi tutti. Allora, oggi vedremo le differenze e apriremo una lille. Questa l'apriremo nei prossimi video. Allora, peschiamo... Chi deve salutare? Ah, quanto è lungo. Sara Marghe, Giulia Margherita, gribane. Poi... Mirella Gesualdi, ciao vi saluto. Allora, vediamo le differenze. Poi ho radunato questo... Cioè, ho messo questo sfondo delle LOL e delle aperture. Ho messo le due mie lille che ho trovato nella ball grande. Ed è... Quindi è la mia prima lille nella ball piccolina. Vediamo... Com'è fatta. Troviamo Midnight... Midnight... Penso che si pronuncia così. Lille Midnight. E nella... Qua davanti. Invece qua troviamo Miss Punk. Quindi due... Già due differenze. Poi qua vediamo sette strati di sorprese. Qua invece ne sono cinque. Le... Vediamo. Prima tutti e due l'indizio. Anche qua gli stickers, ma qua ce n'è uno. Qua l'accessorio. Qua invece il biberon. Qua la borsetta. O il cappellino. Invece qua le scarpine. Qua invece la lille. E qua invece il vestitino. Qua vabbè l'accessorio e la LOL. E lei invece può cambiare solo colore. Vediamo che la scritta è sempre più piccolina. Qua ce ne sono più di 45. Qua più di 35. Qua vediamo che è molto piccola ragazzi. A voi sembra più grande, ma in realtà è minuscola. Vediamo. Vedete come è piccola. Qua invece non c'è questo. Di solito c'è qua sopra, però a me non c'è. Ed è piccolissima. Troppo carina. La cerniera, come potete vedere, è piccolissima. Invece qua è gigante. La differenza. Il biberon è simile. Sì, un po' più piccolino. Invece qua è uguale alla serie 2. Però questo è più piccolo. Qua possiamo vedere un'altra differenza. Qua non c'è scritto niente. Qua invece c'è scritto lille. Più altre cose. Ok, ricapitoliamo. Cinque strati di sorprese. Nel primo un messaggio segreto. Nel secondo lo stickers. Nel terzo un accessorio. Nel quarto la borsetta. Nel quinto è la nostra lille che può cambiare colore. Noi abbiamo provato a vedere cosa c'è. Sì. E pensiamo che è rosa. Però non siamo sicuri. Buono, lo so. Quindi oggi andiamo ad aprire questa. Però guardate un attimo. Così. Ecco. Chissà che ci uscirà. Ah, vediamo chi vorrei trovare. Io vorrei trovare lei. 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 E una delle mie sorelline comunque. E una delle glitterate. Vabbè. Ok. Iniziamo ad aprire. No. Ecco. Aspetta. Già male. Uffa. Ho tolto il primo strato. Qua ce ne sono solo tre di strati da aprire. Quindi. Niente. Oh. L'indizio. Allora. Abbiamo capito che non è una rara. Ecco. Bene. Bom. 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 Abbiamo. È piccolissimo. Abbiamo questa. Bomba. Possiamo dire. Più una conchiglia. Non so proprio chi potrebbe essere. Vediamo. Che potrebbe essere? Lei. No. Guarda che sono dei clap. Bom. Bom. Vedremo. Vai. Vai avanti. Uffa. Allora. Qua possiamo trovare un sacco di lil. Tante lil. E qua troviamo la stellina come nella serie 1. Vincitosa. È rosa. Non è rosa. Quella è. Quella è quella. Ho sbagliato. Ma perché non riesco? Vabbè essere questa qua? Ma no. Quella è del. Sì sì. Quella è quella. Non è quella. Perché non aveva. Tu non puoi capire. Sono divisi in club. Cioè? Quella che è quella. Quindi se tipo è lei? Esce lo stesso indizio sempre. Ma non è lei perché ho già. Prima ho visto dei video. Allora è quella? Quella dovrebbe essere. Non lo so. Non mi ricordo adesso. Non lo so. È rosa. Visto? Qua troviamo lo sticker. Guardate quanto è piccolino. Avevo ragione. Avevo ragione. Seguite il mio canale. Thomas Briggs. Questo è l'ultimo strato. Qua possiamo vedere già qualcosa. Ed è rosa. Qua vediamo tutte le scarpine. E qua gli occhiali. Abbiamo lei. Com'è che si chiama? Lì. No. Lill Doll Face. Qua troviamo Lill Pink Baby. Che è una delle mie sorelle. Ho nei ban. Ho nei ban. Bon Bon Bon. Guardate quanto è carina. È piccolissima. Lol Surprise. Piccolissima. No. Abbiamo. Allora qua abbiamo la checklist. Ecco che non serve niente. E vabbè ce le è uguali. Ecco. Allora qua troviamo la Lill. È seduta? È seduta? È seduta. Aspetta. Questa qua secondo me è Lily Bon Bon. No non è lei perché. Lily Eat Baby. Oh Lily Doll Face forse. Lily Speech. Speech. No lei ce l'ha già. È impossibile che lei. Poi abbiamo. È lei. No secondo me no. Sì sì. Come è questa qua? Sì è lei. Ho la sua sorella. È lei. Perché ha gli occhiali. E chi pensi che sia? Può vedere. Lei o sua sorella? Non male. Qua troviamo questo. No. Che qua ci dice le sue sì. Ci dice come fare. È stupendo. Ma tu lo fai? Ne hai 25.000. Ho trovato la sua sorella. Non ci credo che è bello. Non è brutta. Dai. Non riesco ad aprirla. Nell'altro bol troveremo lei. Non sicura. Sì è lei. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Che forza. Però invece ci devi fare. Ok. Ma che bello. È bellissimo. Guardate. È una fotocamera. Una borsetta. No. Dopo. Vai apri. Questi sono gli occhiali. Quindi è proprio. Ma proprio. Ma è brutto sapere già quella che hai. Eh oh. Adesso. Dovrei sapere direttamente. Gli occhiali come teacher's pet. Qua abbiamo l'anellino. Un sacco di sorprese. Ma va. Questo è l'anellino. Che dobbiamo. È più grosso della faccia. Eh oh. Deve essere attaccato qua. Eccolo. Con la bolle. E la differenza anche che si può mettere così a caso. Abbiamo indovinato che era rosa. Sì. Hai indovinato. Allora. Piano eh. Sì. Dai. Dovevo la sorella. Ecco. Ecco. Avevo ragione. Non ci credo. Bello. Ma tu sei troppo esperta. Io non so. Che carino. Non ci credo. Abbiamo trovato l'inceri. Guarda. Aspetta la mano. Aspetta la mano. No ragazzi. Ho trovato la sorellina. Non ci credo. Ecco. Quindi questo. Eh vabbè non li stanno gli occhiali. Quindi io posso avere. Ho gli accessori per lei. Cioè. La clava. Guardate non li vanno però. Eh poverina. Troppo grande. È troppo grande. Perché è così. No ma c'è troppo grande. Guardate quanto è carina. Ok. Abbiamo una nuova Lil. Ma non sta in piedi. No. È seduta. Menomale. Perché io la volevo seduta. Perché è guai. Non so ancora camminare. Allora ragazzi. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando. Guardate gli altri video. Seguite il canale di mio fratello. Se vi è piaciuto questo video a me. E poi. Ciao a tutti. Tutto il mondo. Iscrivetevi al mio canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.